No papà, non me ne vado. Non sono bravo ad andarmene io. Però, non lasciare ciò che ti piace. Quante cazzo ne hai ancora? Ti muovi che mi serve una mano? No, no, non voglio tornare a casa. Intanto lì non c'è nessuno. Non vedo più persone e occhi liberi da tanto tempo. Quindi non riesco più a cantare, anzi mi viene solo da stare zitto. Le mani che sanno fare qualcosa di bello continueranno ovunque. Quelle che distruggono non sono mani. Se diventiamo supereroi, non è solo merito nostro, ma di chi salviamo. Non devo smettere di affezionarmi.